il primo punto è del primo eh si, ti sento la rete, va avanti non perde l'occasione 15-0 e si, ti sento ancora forte e questo rombo apre il campo rimane corto e Kram arriva e spacca 30-0 call out, tentativo di lob del missile 0-0 30-0 CL7 è aggressivo, Marco Garavini di sopra la rete e si è un'Italia che passa qualche centimetro più alta lui si avvicina, va e la chiude 0-15 0-15 il campo è replica, anche lui fa passare l'una, l'abbiamo detto il traffico aereo che dirige lui sì, anche perché era difficile questa palla, non era così facile 0-15 pari 15 e la pagina numero 4, quella a pallonetto in controtempo del manuale del beach tennis, pagina numero 4 30-0 30-15 e la pressione di Cape era già lì come fate finire è per stare qui l'ha letto in anticipo 40-15 ha detto l'appoggio di questo bilanciere vicino alla riga esecuzione notevole, 40-30 servizio è lungo rata pari prima situazione di killer point grazie 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 ho detto l'appoggio di su liga in fondo out il tentativo di Laba e di Marco prosegue fino all'ultimo secondo Michele e poi decide di lasciarla 0-15 0-30 0-15 15-30 chiamata di Carlitos 15-40 0-15 15-0 15-0 15-40 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 Out, molti errori, c'è il break, 3-2, passo di vantaggio. Uno smash CL7. Ma che viene in dettado nell'arretramento, Luca riesce a trovare l'equilibrio. Quindici zero. Out, servizio di Carlitos, quindici pari. Mamma mia, che risposta che ha fatto Michi, si era niente in arretramento, così il corpo era dietro, quasi anche la palla. Trenta, quindici. Trama, stab e smash. Applausi. 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 ancora urla no la palla è fuori 15-40 come è stata questa risposta di cappe lì vicino alla rete break in apertura 1-0 per i campionati di carica Carlitos quanto peso che prende il servizio di cappe quando lo fa scendere così batte forte, batte dall'alto Vicky, la palla scende è potente 15-0 cosa difeso Luca che è una rossa? fuori dall'ordinario davvero il talento del fenomeno di Taranto non basta 30-0 grazie a tutti grazie a tutti un'ottima risposta e poi salta smash in alto 30-15 40-15 ancora al servizio Michele Cappelletti bravo 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 15-0 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 palla. Non lascia cadere niente il missile. No, e poi la mette sempre là dove l'avversario deve fare almeno due passi per riuscire a aggiungere la palla. 15-30. La palla. La risposta Michelli, lì davanti al forco di diritto. Riesce a prendere il tempo alla palla, il servizio di gara andava veloce ma lui ci mette la racchetta. 15-40. E poi la mia ammiglia, costruisce il missile, chiude il caffè. Segno Carlitos. 15-0. Allemà! 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 30-15. Ottima giornata. Ora protegge il servizio di Carlitos. 40-15. Allemà! Calitos Tocca Cappé Buono ringrazio di Marco Cappé tocca la palla Buono ringrazio di Balle 20-0 E Cappé 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 15-30 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 Missile! E' bella questa risposta amichi, così con il forso da sotto la nette riesce a gestirla e a giocare questo pallonetto vincente e a scavalcare Pagina Numero 11 del manuale del tennis Passate addirittura Abbiamo girato la pagina 40 pari La palla è buona, il primo, molti ringrazio, questo guardattaco è importantissimo 4-1 Ancora una bordata E' potente, è potente questo servizio, Michi, là dall'alto 15-0 Vai, Luca! Vai, Luca! Vai, Luca! Vai, Luca! Luca! 30-0 30-0 30-0 30-0 30-0 Non mi sono servizi per capi Buro, buro, buro vincente Di gara Buro, buro vincente Buro, bravo, Michi Rimane lì C'è una rete 40-15 Buro Vincente Di gu Abbiamo La risposta di Luca Carli che si tuffa come un quartiere. La risposta di Luca Carli che si tuffa come un quartiere. La risposta di Luca Carli che si tuffa come un quartiere. La risposta di Luca Carli che si tuffa come un quartiere. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.